Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Terribile lutto per il grande fratello. È morto Nicola, la storica voce del confessionale. La notizia ha colpito profondamente gli ex concorrenti che hanno espresso il loro dolore sui social. Al momento non sono note le cause del decesso. Marco Maddaloni, concorrente dell'ultima edizione, ha ricordato Nicola come un'anima stupenda dietro quella voce che li accompagnava al confessionale. Anche Letizia Petris ha espresso il suo dolore per la perdita, ricordando come la voce di Nicola l'avesse accompagnata in un periodo fondamentale della sua vita. Nicola era una guida per tutti i concorrenti del grande fratello, non solo per quelli dell'ultima edizione. Veronica Satti ha ricordato con affetto i momenti passati con Nicola, dalle ammonizioni scherzose alle sagge parole di consiglio. Nonostante non si sentissero da anni, Veronica ha voluto ringraziare Nicola per i bei ricordi che ha lasciato. La scomparsa di Nicola ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano. Il grande fratello pie la perdita di una figura così importante per il programma, mentre gli ex concorrenti continuano a condividere messaggi di commiato e ricordo. Nicola resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo